Laura Marvaldi del direttivo de Alecca, questa rivista, queste pagine di storia, cultura e tradizione alla scoperta della Valle Impero. Oggi l'anteprima per la stampa, domani presentazione ufficiale a Chiusa Vecchia, è così? Certo, domani alle 16 la presentiamo al nostro solito frantoio di Rocca Negra e quest'anno la rivista, secondo me, a una cosa di cui sono intrigata a parlare, non sembra. Normalmente si dice contadino, scarpe grosse, cervello fino, è altro che vero. Dalla Valle partono le intelligenze e si diramano verso la Valle. L'entroterra non è quel luogo che si pensa chiuso, o anzi, è un luogo molto aperto e molto disponibile. Quest'anno nel volume della Lecca si parla dei tallone, beh, è più chiaro di così. Gli Agnesi sono nati a Ponte d'Assio. Sembra strano, ma questo piccolo mondo che parrebbe conchiuso in realtà è un mondo aperto al mondo. Forse non è neanche vero che le montagne isolano, forse è la testa della gente che fa posti isolati o posti aperti. Io mi vanto di vivere in Valle Impero. Patrizia Tallone. Allora, i tallone arrivano dalla Valle, rivendicano orgogliosamente queste origini, ma oggi si può ancora scommettere sulla Valle, riuscire a vivere, sopravvivere, investire in Valle? Beh, più che sopravvivere direi vivere, nel senso che noi abbiamo assolutamente deciso di rimanere incollati a questa Valle e ci crediamo vivamente, nel senso che è una scelta che abbiamo preso consapevolmente e noi ci viviamo più che bene, assolutamente. E con una testimonianza che è riportata anche dalla Lecca, della quale però siete anche oggi sostenitori, perché insomma è un po' questa voce della Valle Impero. Sì, quello della Lecca è un progetto in cui abbiamo creduto, anche perché la Lecca è un'associazione culturale che promuove, vuole promuovere un territorio che è un territorio, come dicevo prima, al quale noi siamo estremamente legati e quindi ci faceva molto piacere partecipare a questo progetto. E anche Rossana Tallone è impegnata nella prosecuzione di questa tradizione di famiglia che ha coinvolto anche le nuove generazioni, mi pare di vedere, che possiamo dire lancia anche un messaggio appunto, come dicevamo anche con Patrizia, di speranza di futuro sul fatto di vivere, investire in Valle, anche per i giovani. Sicuramente sì, io è da poco che sono entrata in azienda, sono stata tanti anni in Veneto, mi sono laureata e sono contenta di aver trovato il mio posto qua, cosa che non pensavo possibile. Invece mi sono stupita di scoprire qualcosa di nuovo, pur essendo nel mio, nella mia famiglia, nella nostra azienda. Perché non era così scontato il ritorno a casa purtroppo, viste anche le contingenze, la situazione di difficoltà economiche in generale. Invece forse volendo si può ancora fare, credendoci. Assolutamente sì, è stata una sfida e penso che sia stata una sfida vincente per me. Ed è una continua sfida, perché bisogna guardare avanti. Assolutamente sì, assolutamente sì. L'esempio me lo dà mio papà, che vedo che non si ferma mai, è sempre in movimento, ha sempre qualche nuova idea, che da una persona comunque ormai ultra sessantenne, e comunque si può considerare realizzata, uno non se lo aspetta. Invece è bello che ci sia questo continuo entusiasmo, questa voglia di continuare a migliorarsi e crescere.